Il nostro comune ha rispettato per il quinto anno consecutivo il patto di stabilità interno. Lo ha annunciato il sindaco di Mazzara del Vallo, Nicola Cristaldi. È un risultato straordinario, afferma il primo cittadino, se si pensa alla crisi economica internazionale che da oltre un quinquennio colpisce il nostro paese con gravi ripercussioni nell'economia locale. Rimaniamo uno dei pochi comuni in Italia ad avere rispettato il patto di stabilità per più anni continuativamente, prosegue Cristaldi, cosa che ci consentirà di non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge nel caso di sforamento del patto e di continuare ad avere una via privilegiata nella concessione dei finanziamenti. E oggi in discussione all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge che regolerà le funzioni dei liberi, i consorsi dei comuni, legge che reca con sé il sostegno anche ai consorsi universitari, tra cui quello di Trapani e gli altri enti già sostenuti economicamente dalle ex province. Inizia oggi all'Ars la discussione del DDL che reca disposizioni in materia di liberi consorsi comunali e città metropolitane. La legge regolamenterà i nuovi organismi che prenderanno il posto delle disciolte province. Il testo della norma assegna al libero consorzio dei comuni anche il sostegno e sviluppo dei consorsi universitari presenti nel territorio, nonché degli enti culturali già sostenuti dalle ex province regionali. Un enunciato rammenta il deputato regionale Gironamo Fazio che abbiamo voluto inserire nella norma proprio per porre di medio alle difficoltà, ai guasti e alle incertezze provocate con la legge di scioglimento delle province che a Trapani portò il commissario straordinario ad approvare le delibere di revoca dalla partecipazione nel consorzio universitario della provincia di Trapani, nella biblioteca fardelliana e nell'enteluio musicale trapanese. Il testo della nuova norma reca un puntuale riferimento ai consorzi universitari perché non si innescassero equivoci, aggiunge Fazio, estensore primo firmatario con altri deputati regionali trapanesi e non. Soprattutto questo testo, dice, corregge una madornale svista del governo regionale, valutazione condivisa dalla Commissione Affari Istituzionali che la norma ha esitato nei giorni scorsi nel testo definitivo da proporre all'esame dell'Aula. Sarà dunque l'Assemblea regionale siciliana a mettere in sicurezza, almeno dal punto di vista normativo, il grande bagaio di esperienze accademiche e di cultura prodotta dai consorzi universitari in questi anni. Si aprono spiragli di speranza anche per il luglio musicale, per la biblioteca fardelliana, anche se per l'attuazione della norma bisognerà attendere la piena operatività dei liberi consorzi e l'insediamento dei nuovi organi elettivi di secondo livello. La preoccupazione è rivolta adesso ai tempi di attuazione della nuova norma. Poste le condizioni per il futuro con l'approvazione del DDL sulle funzioni da assegnare alle ex province, alle città metropolitane, conclude Fazio, auspico che si determini durante i lavori d'Aula relativi alla legge di stabilità anche la condizione necessaria per il presente, cioè un corposo sostegno economico della Regione che faccia da intervento ponte fino alla operatività dei liberi consorzi. Se emendamenti vanno presentati a sostegno del consorzio, lo si dovrà fare nella legge di stabilità. Passo annuncia che mi accingo a predisporre. In occasione della giornata mondiale della salute domani 8 aprile a partire dalle 10 nella sala conferenze della Cittadella della Salute a Derice Valle si terrà un incontro organizzato dal club Unesco Erice in collaborazione con l'azienda sanitaria provinciale di Trapa e nell'ufficio scolastico provinciale. Tema della giornata che celebra l'anniversario della Fondazione e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità è essere e benessere al tempo di oggi. Nuovo ospedale di Marsala, parliamo del caso espropri. Il Tribunale di Palermo ha condannato Regione e Aspa a pagare 4 milioni di euro per i terreni espropriati. Secondo il giudice, tanti errori nel procedimento e importi del risarcimento contestati. Tanto paga Pantalone, uno dei detti più classici per dire che alla fine gli errori ricadono sempre sulle tasche dei cittadini. Frase mai più azzeccata nel caso dell'avvertenza giudiziaria che si è innescata per la costruzione del nuovo ospedale di Marsala. Una pioggia di denaro all'incirca 4 milioni di euro sta per cadere sul capo degli ex proprietari dei terreni sui quali è stato realizzato il nosocomio. A pagare saranno l'assessorato regionale alla sanità e l'ASP di Trapani, ergo quindi i cittadini attraverso le loro tasse. E' quanto ha deciso, a seguito di un ricorso degli ex proprietari degli appezzamenti di terreno, il giudice Enrico Catanzaro del Tribunale Civile di Palermo. Gli ex proprietari avevano citato come responsabile civile anche il comune di Marsala, ma per il giudice l'amministrazione locale non ha alcuna responsabilità. Una buona notizia per le casse comunali che altrimenti rischiavano di subire un duro colpo. Secondo i ricorrenti, alcuni aspetti della pratica di espropriazione erano illegittimi. In particolare, gli ex proprietari hanno contestato gli importi del risarcimento calcolati a suo tempo dal consulente tecnico d'ufficio. Il giudice è ritenuto fondata l'istanza, in quanto l'occupazione delle aree sulle quali poi è stato edificato l'ospedale non è stata preceduta dall'indicazione dei termini per l'inizio e la fine della procedura espropriativa, né sono stati indicati i termini per l'inizio e la conclusione dei lavori. Assente inoltre la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. L'occupazione quindi per il giudice ha causato l'irreversibile trasformazione del bene a partire dal 1992. Il giudice civile ha sentenziato inoltre che il danno risarcibile corrisponde al valore venale del terreno trasformato in riferimento alla situazione di diritto e di fatto esistente al momento della abusiva manipolazione dell'immobile, cui si correla per il proprietario la perdita di ogni utilità da esso retraibile. La causa nasce dalla riunione di diversi procedimenti avviati dagli ex proprietari contro Aspa, Assessorato regionale alla sanità e Comune Marsalese. L'iter per la realizzazione del nuovo ospedale di Marsala fu avviato nel 1978 quando il Comune Marsalese individuò l'area. I lavori però furono avviati soltanto nel 1989. Alla fine del 1992 furono completate le opere murarie, costo 23 miliardi di vecchie lire. Nell'ottobre del 1996 vennero affidati i lavori di completamento, ma l'anno dopo l'impresa che li stava eseguendo fallì. La conseguenza fu un nuovo lungo stop dei lavori. Nel frattempo in custodita subì danni vandalici. A completare il quadro infine anche una clamorosa vicenda giudiziaria relativa ai primi due appalti che il 5 dicembre del 1995 condusse all'arresto di 26 persone, fra progettisti, imprenditori, amministratori e funzionari dell'ex USL3, tutti accusati di aver gonfiato i costi dell'opera. Seguirono poi condanne e assoluzioni. Infine nel 2002, dopo la visita del ministro della Salute Gironomo Sirche, che definì l'incompiuta una vergogna nazionale e lo stanziamento di 65 miliardi di lire, ripreso le lavori di completamento. Corso di formazione per coppie in attesa di adozione. Ad organizzarlo il centro affida adozione del distretto socio-sanitario di Trapani, Buseto Palizzolo, Custonaci, Erice, Favignana, Paceco, San Mitolo Capo e Valderice. Il corso si terrà nelle giornate del 13, 15 e 16 aprile, dalle 16 alle 18, presso i locali del gruppo tecnico operativo in via Framichele Burgio, nel rione Cappuccinelli, settore servizi sociali del comune di Trapani. Sul sito istituzionale del comune di Trapani è pubblicato il programma del corso e la scheda di partecipazione. Ed esperti del mondo del vino e dell'enologia saranno a Marsala il prossimo fine settimana, venerdì e sabato, in occasione della seconda edizione dell'Eno Focus, l'evento promosso per il secondo anno consecutivo da Asso Enologi Sicilia, l'associazione di categoria guidata dall'enologo Giacomo Manzo. Docenti universitari, ricercatori e professionisti provenienti dal mondo dell'impresa, in arrivo da tutta Italia, Francia e Svizzera, si incontreranno a Marsala per condividere con gli enologi siciliani le più importanti ricerche ed innovazioni di settore messe a punto nell'ultimo anno. E si apre la stagione turistica a San Vito Lo Capo che continua a registrare boom di presenze anno dopo anno, sabato mattina al Via il concorso di morfologia dedicato ai cavalli arabi. Sarà inaugurata sabato mattina la sesta edizione del trofeo Trapani Arabian Horses Cup 2015, concorso di morfologia dedicato ai cavalli di razza araba, promosso dall'Associazione Nazionale Cavallo Arabo ed organizzato dal nuovo gruppo equestre Monte Erice con il patrocinio del comune di San Vito Lo Capo e dell'Ars. La manifestazione prenderà il via alle 10. In Via del Faro, suddivisi per anno di nascita, inizieranno a sfilare le puledre e i puledri. Nel pomeriggio, a partire dalle 15, gareggeranno ancora i puledri e poi le fattrici. Domenica mattina dalle 10, toccherà gli stalloni e i Futurity, ossia le puledre e i puledri nati quest'anno. Prevista infine la sfilata della categoria Amator, i cavalli condotti da handler non professionisti. Domenica pomeriggio si svolgeranno i campionati finali e il trofeo Sicilia Cup. Infine verrà decretato il Best in Show, il cavallo arabo più bello della manifestazione. Sarà una nuova ed entusiasmante sfida, assicura l'organizzatore Antonio Culcasi. Sono infatti numerose le novità dell'edizione 2015, dice, ad iniziare da questa meravigliosa location, quale San Vito Lo Capo, e dal salto di categoria del concorso, passato dalla C alla B. Inoltre, gli appassionati potranno seguire l'evento in diretta streaming. L'intrattenimento, degustazioni ed esposizioni all'interno dell'Horse Village faranno da cornice all'evento. In entrambe le giornate di gara, lo show verrà aperto da un'esibizione equestre a cura dell'associazione Arabians Ranch Valle del Belice. L'Horse Village ospiterà stem di attrezzature per cavalli e sarà possibile ammirare i prodotti dell'artigianato locale e degustare prodotti tipici. Sabato sera, a partire dall'evento, in programma un suggestivo spettacolo di luci con cavalli e cavalieri e un cooking show sul couscous organizzato dall'Associazione Cereniana Cuochi Sambitesi. Nell'ambito della manifestazione domenica anche un'esposizione cinofila. Il concorso dedicato ai cavalli arabi rappresenta un po' l'apertura della stagione turistica per la cittadina marinara che si conferma la punta di diamante del turismo siciliano. A San Vitolo Capo continuano infatti a crescere anno dopo anno i flussi turistici ma aumentano anche i giorni di permanenza media dei visitatori per una stagione turistica che grazie ad un sapiente piano di destagionalizzazione condotto dall'amministrazione comunale si è ormai estesa a otto mesi l'anno da aprile a novembre. Nel 2014 rispetto al 2013 infatti ha registrato un incremento delle presenze turistiche sia italiane che straniere del 17% e un aumento degli arrivi del 10% come rivela l'ufficio statistica della provincia di Trapani. San Vito con le sue circa 750.000 presenze annue è ormai un modello da imitare per tutta la regione. L'attrattività del suo territorio confinante con la riserva naturale dello zingaro la pulizia del mare premiato ogni anno dalle cinque vele di lega ambiente la bontà della sua cucina che vede il couscous quale piatto simbolo uniti all'appir della sua offerta culturale e di intrattenimento con un fitto calendario di eventi che si snodano dalla primavera fino ad autunno inoltrato ne fanno un mix irresistibile in grado di accontentare tutti i gusti e tutti i visitatori.